Il nostro diversivo ha funzionato, ma hanno lasciato una nave a sorvegliare l'impianto, un incrociatore dotato di armamenti sofisticati. I sistemi antiaerei ci impediscono di attaccare dall'alto, ma ha un punto debole. Sessanta piedi sott'acqua, vicino al cortello di sfogo termico. Keegan, Logan, questo compito è vostro. Apriteci la strada per l'impianto. Ricevuto. Manderemo un'altra nave al cimitero. Scendiamo. 50 metri. Ossigeno regolare. Scarecrow. Via al tempo. Di qua. Obiettivo a 5 chilometri. Resta al riparo. Non siamo gli unici predatori qui. Cazzo, Logan! Di qua. Obiettivo a 5 chilometri. Resta al riparo. Non siamo gli unici predatori qui. Usano i sonner. Piano. Avanza piano al riparo. Le piante dovrebbero coprire il nostro segnale. Aspetta. Battuglia. Sembra che abbiamo compagnia. Lasciali separare. Ok. Andiamo con prudenza. In posizione. Ricorda che i colpi sono più deboli sott'acqua. Ne serviranno almeno un paio. Fuoco a volontà. Bel lavoro. Avanziamo riparandoci nel relitto. E non salire troppo in alto. Meglio non attirare troppa attenzione. Piano. Stai giù. Stai giù. Sommercibile, brutto segno. Fermo. Per poco. Di qua. Cazzo, sono ovunque. Scarecrow, qui sotto c'è parecchia attività. Stanno smantellando dei rilitti. Prebbero esserci ancora i miei motori nucleari. Riferiremo. Ben fatto. Ne conto quattro. Facciamoli fuori, al tuo via. Fuoco! Libero. Avanti. Scarecrow, qui sei due. Siamo al punto bravo. Contatto negativo. Il bersaglio si muove. Dovete sbrigarvi o perderete l'occasione. Contatto. Hanno trovato quello che cercavano. Proviamo ad avvicinarci di lato. Fuoco a volontà. Sanno dove siamo. Sanno dove siamo. fuoco a volontà. Tu stai. Tu stai. zona libera seguimi sembra esserci un varco tra i container ok controllo e regolatore scendiamo nella caverna ok scendiamo ancora occhio alla profondità eccola scelcro un contatto con il bersaglio intercettiamo rileviamo forti impulsi sonici in zona a quei livelli la pressione dell'acqua effetti letali bomboli in alto e giù la testa ok è ricevuto impossibile farlo esplodere siamo costretti a tagliare di qua via al riparo scarecrow bersaglio inquadrato ma non possiamo ingaggiare la scelta 2 1 1 c'è della rietro immediato negativo 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 Natural paio www.�리vsta.ibfö sono se lotta c'è tutto Eccola! Sincroniziamoci! Ok, missile proteus attivo. Abbiamo un solo tentativo. Affondala! Io lo punto! Tu guidalo! Fuoco! Vieni, citate! Oh, merda! Lecce di morte! Logan, rispondi! Stai bene? Resisti! Adesso ti libero! Tutto ok? Ma che... Via! Dai! Andiamo! Scherico! Qui 6-2! Versaglio neutralizzato! Passare alla fase 2! Passo! Un'altra fase 2! Un'altra fase 2! Avete attirato la sezione! Procedere con l'attacco aereo! 6-2! Chiudo! Che Vivo! Sì! Continua! E' finito! Si viva! Dai, dai! Verso nella terra! 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 Carichi di profondità! Dentro quella nave! Di qua! Dai, dai! All'alerta! Qui siamo al sicuro! Tieni gli occhi aperti! Zona libera! Nessun contatto! Ah, cazzo! Calma, è già tanto riuscire a vederli. Speriamo siano già sazi. Aspetta. Siamo nella merda. Andiamo uno alla volta. Vado prima io. Stai qui e coprimi. Ok, tocca a te. Ricorda, vai piano e tieni le distanze. Anticipa i loro movimenti. Andiamo. Via dalle finestre. Via dalle finestre. Lo sportello. Dai. Adesso siamo al sicuro. Adesso siamo al sicuro. Roger, per fortuna siete ancora tutti interi. Eh, è ricevuto. L'aviazione è pronta al decollo. Procedere con la fase 2. È ricevuto. Sei due e chiudo.